La società Beckeriux ha comunicato in dato di Erna la rinuncia all'insediamento produttivo e al progetto industriale nel porto di Corigliano Rossano, progetto che questa autorità di sistema portuale aveva fortemente voluto, ricevendo anche l'appoggio convinto della Regione Calabria, degli industriali, dell'intero fronte sindacale ed anche della società civile, forse ad eccezione un'associazione locale che porta avanti concezioni fuori dal tempo. Al di là di un incomprensibile e ingiustificabile formalismo procedurale, la verità è che la giunta comunale non ha voluto nei fatti l'insediamento industriale in un porto deserto da 40 anni, condannandolo ad altri cento anni di solitudine. Hanno detto no a un'imperdibile occasione di sviluppo, tra l'altro in piena armonia con la sostenibilità ambientale, hanno detto no a 200 posti di lavoro e a 200 giovani che da domani prenderanno la via del nord per cercare la propria occasione. Chi non ha voluto che questo progetto si insediasse nel porto di Corigliano stasera si goda questa tragica vittoria.